Reduce dalla vittoriosa trasferta contro l'Abros Paiare per 3-0, la TUM Perugia Volley torna ad allenarsi al Palavangelist in vista della prossima partita in casa contro il Castelfranco, sesta in classifica. Una partita importante da vincere se la squadra da lei allenata vuole continuare a mantenere questa posizione in zona play-off che è anche l'obiettivo che vi siete posti per quest'anno. Hai parlato giustamente, noi abbiamo questi obiettivi e ogni partita è una partita da vincere per chi gioca e fa questo sport, il pareggio non c'è e quindi siamo obbligati a vincere. Pisa è una squadra forte, è una squadra determinata, noi veniamo da una trasferta che sembrava sulla carta facile ma ogni trasferta può essere a giusto qualcosa di diverso. Sappiamo che sabato sarà un incontro duro con una squadra tosta. Però le ragazze ci sono, si stanno allenando per cui... Le ragazze ci sono, l'avete vista questa sera, stiamo facendo bene, è un gruppo giovane che si sta allenando costantemente, è un gruppo che è determinato, molto molto giovane. Quindi dall'altra parte sappiamo che ci sono squadre anche un pochino più esperte, con giocateci più esperte, ma noi diciamo la nostra, specialmente sul palazzetto di Perugia. Con la vittoria, l'ultima partita fuori casa, siete tornati in zona playoff, quindi per ora l'obiettivo è centrato, si tratta di mantenerlo. Sì, effettivamente, a noi servivano questi tre punti, era una partita sulla carta molto facile, abbiamo ottenuto un buon risultato, siamo tornati in zona playoff che è quello che a noi interessa, però dobbiamo continuare così e anche in trasferta, nelle prossime partite comunque cercare di riportare bottino pieno. Sabato abbiamo avuto una partita facile, quindi adesso sono tutti scontri diretti, adesso il bello viene ora, quindi dobbiamo confermare e cercare di tenere questa posizione, le altre squadre sono a guerrete, quindi dobbiamo impegnarci al massimo per tenere la posizione che in questo momento abbiamo.